E' proprio il caso di dirlo, oltre al danno, anche la BEF. Come se lo stop al conferimento dei rifiuti della Locrida non fosse abbastanza, ieri, durante l'assemblea dei sindaci, convocata ad urgenza per discutere dell'ennesima emergenza rifiuti, sarebbe infatti emersa una circostanza che ha del clamoroso. I camion carichi dei rifiuti provenienti dalla città di Reggio Calabria sarebbero riusciti a scaricare all'impianto di trattamento di Contrada San Leo di Siderno. Il tutto, nonostante i sindaci del comprensorio abbiano presidiato l'impianto in questione fino ad orario di chiusura. Le forze dell'ordine smentiscono, tuttavia l'assemblea si è detta convinta. I camion, a detta del comitato, pare abbiano fatto un falso dietrofront alla vista della barriera costituita dalle automobili dei sindaci in protesta. Ma una volta liberato l'accesso alla struttura, i mezzi sarebbero rientrati e avrebbero scaricato le 120 tonnellate del carico. Si capisce bene, pertanto, il clima teso dell'incontro di ieri pomeriggio. Ai nostri microfoni, il presidente dei sindaci della Locride, Giorgio Imperitura. Nesca un meccanismo di sudditanza ancora della Locride nei confronti di raggio, astio e chi invece dice dobbiamo essere solidari? Ma io non direi di astio, piuttosto di risentimento, nel senso di una paventata impotenza di fronte al strapotere regino, ma determinato, bisogna subito metterlo in chiaro, da una difficoltà oggettiva che la città di Reggio Calabria sta soffrendo come noi. Noi mettiamo in evidenza il ragionamento che noi non siamo secondi a nessuno, i territori sono nostri, la discarica è nostra, e quindi essere trattati con pari dignità. Cioè la guerra che viene fatta non viene fatta nei confronti dei cittadini di Reggio Calabria o del sindaco di Reggio Calabria, ma del sistema che impone alcune condizioni. Ma perché non chiamare in causa, quindi magari invitarlo, spostandolo forse anche di qualche giorno, direttamente anche il sindaco di Reggio Calabria? Così era parte in causa e lo sentivamo anche. L'avevo già fatto. L'avevo già fatto fino a ieri. Lui mi ha dato comunicazione, ed è ufficiale, non ho nulla in contrario nel credere, che oggi alle 5 c'era il Consiglio Comunale a Reggio Calabria, altrimenti sarebbe venuto qua. Dovremmo comunque sentirlo. Santa, ma la protesta continuerà? Certamente sì. Certamente sì. Ora determineremo i modi, i tempi e i modi, ma penso che non ci si possa più tirare indietro davanti a una situazione di evidente disagio complessivo per colpa di una politica regionale che è deleteria per tutti. Il problema è allarmante anche a detta del sindaco di Locri. Anche Giovanni Calabrese, infatti, si è dimostrato certo che i camion prevenienti dalla città del Principino, come lui stesso ha definito Giuseppe Falcomatà, hanno scaricato i rifiuti trasportati. Ma Locri è come era prima. La Locri è di fatto, va a stare prima e va a stare oggi. La Locri non ha espresso nessun consigliere regionale. Questo era anche prevedibile, un po' tutta la disorganizzazione, un po' tutta un territorio poco omogeneo dal punto di vista anche dei sentimenti. Di fatto i cittadini della Locri hanno premiato i candidati provenienti da altre aree, soprattutto quella di Reggio Calabria. Di fatto il problema oggi dei rifiuti lo dimostra. Oggi c'è una sorta di arroganza politica da parte del sindaco di Reggio Calabria che ha imposto di conferire in pochissimi giorni 500 tonnellate di rifiuti verso l'impianto di Siderno. Fu una problematica sollevata e sono venuti anche durante la notte ieri a conferire rifiuti, come autorevoli fonti sembrerebbero a confermarlo. Diamo il condizionale, non abbiamo nessuna conferma, non possiamo dimostrarlo. Resterà uno dei tanti misteri dell'Italia, in questo caso un mistero della Locri, quindi sicuramente non lo sapremo mai. Di fatto però continua questo sistema assurdo che non ha la possibilità ai comuni di poter conferire nell'impianto di Siderno, l'impianto di smistamento di Siderno. Ma attenzione, il problema non è del sindaco di Reggio. Il sindaco di Reggio ha chiesto alla Regione Calabria, la Regione ha autorizzato, è la Regione Calabria che può dare l'impianto. Il sindaco di Reggio fa un'azione di fatto legittima, utilizza il proprio potere politico poi per imporre, e in questo caso è riuscito a farlo. Quella che noi diciamo solitarietà, la solitarietà deve essere anche però nei confronti del nostro territorio, che di fatto subisce tantissimi anni. Ma io faccio un esempio. C'è il sindaco di Locri, cosa deve fare oggi che si trova circa 30 tonnellate di rifiuti per le strade? Cosa deve fare per le 5 tonnellate di rifiuti che ci sono davanti all'ospedale? Cosa deve fare con i rifiuti dell'istituto penitenziario, dell'istituto alberghiero, che sono degli istituti, degli enti che producono rifiuti e riguardano tutto il territorio, però oggi sono nella città di Locri. Noi siamo in enorme difficoltà, questo abbiamo cercato di far capire all'Assemblea dei sindaci e alla Regione Calabria. Ma non veniamo ascoltati. Gualtieri? Gualtieri l'ho sentito anche ieri sera. Lui sostiene che non è questo il modo di agire da parte dei sindaci. Allora dovremmo capire cosa dobbiamo fare. Noi siamo con le spalle al muro. Tra l'altro c'è anche un problema di costi che aumentano poi, come diceva il sindaco di Giosano, nella raccolta dei rifiuti, perché più rifiuti ci sono per strada e più aumentano i costi per raccogliere questi rifiuti. Intanto la situazione è peggiora di ora in ora. Il sistema è al collasso e i comuni della Locri strabordano di rifiuti in ogni angolo. Sono problemi che si stanno sovrapponendo l'uno sull'altro e che ci stanno portando veramente ad una sorta di esasperazione. Gli amministratori, in generale tutti gli amministratori, in particolar modo gli amministratori della Locrile, si trovano in una situazione veramente di prostrazione nei confronti dello Stato centrale che ci sta rendendo come una sorta di esattori dello Stato. Non possiamo continuare in questi termini. La cittadinanza non ce la fa a sopportare i carichi tributari e fiscali. Qualcuno dirà che sono finiti i tempi delle vacche grasse. Veramente da noi non ci sono mai stati i tempi delle vacche grasse perché i nostri bilanci sono stati sempre esigui, non ci sono state grandi entrate da parte di esercizi commerciali e quei pochi che c'erano adesso vanno chiudendo e quindi ci troviamo meno anche di questo gettito. Cosa dire? Le varie situazioni ci portano a fare questa considerazione. Se oggi noi ci lamentiamo del fatto che la Locrile subisce l'influenza della città di Reggio Calabria in particolar modo con questi atteggiamenti quasi di vassallaggio come lei ha ben detto prima con la questione dei rifiuti ci domandiamo e ci stiamo domandando in assemblea e stiamo discutendo su questo, su cosa succederà un domani nel caso in cui la città metropolitana ci fagociterà, ci renderà regiocentrici. Se il buongiorno si vede al mattino, questo ci deve portare ad una discussione seria, una valutazione seria su come entrare nella città metropolitana e su come starci.